Chiara e Luca, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un altro per tutta la vita? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra e esprimete davanti a Dio e alla sua chiesa il vostro consenso. Io Luca accolgo te Chiara come mia sposa. Io Chiara accolgo te Luca come lo sposo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore. Grazie a tutti.